Shakhtar Donetsk, tanta gente, ma com'è l'Ucraina? Ma io non lo so, è stato un po' lo spartitraffico della mia vita, perché comunque andare a fare quella scelta lì mi ha portato poi a farne altre, a conoscere nuovi posti tipo Napoli, tipo Parma. Napoli per esempio è stata per me una sorpresa. Faccio vedere già l'undicesima foto perché c'entra Napoli, la vediamo insieme. È stata una sorpresa? Allora Napoli per me, io vi dico la verità, ovunque ho giocato non vedevo l'ora di arrivare alla domenica sera per prendere la macchina e tornarmene a casa. A Napoli nei due anni non ho mai avuto la necessità di tornare a Livorno nonostante voi conoscete il mio legame con Livorno, perché mi sentivo a casa. Sono simili? Io per il Napoli non ho fatto assolutamente niente. Si dice di Livorno che è un po' la Napoli della Toscana? Assolutamente, si è sempre detto che Livorno è la Napoli del nord. Io a Napoli non ho dato niente, pochissimo, zero, in campo. Poi magari fuori dal campo qualcosina ho portato di esperienza. Ho ricevuto un affetto incredibile, tutt'ora io giro per l'Italia, perché i napoletani il giorno che il Napoli giocano sulla luna trovi i tifosi del Napoli anche sulla luna, non si scappa. Girando per l'Italia ho un affetto da tifosi del Napoli impressionante. Mi domando, ma se avessi fatto 240 gol nel Napoli e per il Napoli, cosa sarei oggi? Ok, tutti. Le